Sigla Ascoltavi attentamente Sono sempre momenti meravigliosi dove poi tu riesci proprio a estrapolare delle cose importanti dai tuoi ospiti Beh ma diciamo che li seguo seguo molto proprio i loro racconti, le loro emozioni vengono fuori veramente delle storie molto interessanti Giovanna è una donna straordinaria Io anzi farei ancora un applauso perché ha detto delle cose e ci hanno toccato in modo particolare